La perdonanza rappresenta paradigmaticamente la storia dell'Aquila per questo. Una città forte, distrutta da cinque terremoti, ma che ogni volta ha trovato la forza di riedificarsi intorno ai suoi simboli identitari e tradizionali. Il legame con la perdonanza degli Aquilani sta a dimostrare che c'è questa immagine di comunità che si ritrova intorno alla bolla di San Pietro Celestino e che dà un senso compiuto agli sforzi che stiamo facendo dopo il terremoto del 2009.